ciao fior di spino guarda che cosa qua no che figata lucia ma c'è qualcosa che non mi torna ma ci sono alcuni cartigli che non abbiamo scritto insieme ah sapessi dopo il nostro brainstorming sono andata in studio e lì ho avuto un'illuminazione a me questi cartigli piacevano erano così carini vabbè riproviamo allora quando ti guardo mi sciolgo come un bacio al sole carina contaminiamola allora quando ti guardo i miei ormoni organizzano un rave bella non faccio che pensarti hai preso la residenza nei miei neuroni è fighissimo grande alla fine le mie frasi le ha lette signor baci perugina gli sono piaciute moltissimo e ha deciso di stampare anche miei dei cartigli ma lucia tu sei un genio mi hai fregato due volte no è che sei tu che sei balengo però io in realtà ti devo ringraziare moltissimo perché mi hai aiutato spontaneamente ti ho aiutato sì beh spontaneamente mi hai insegnato anche un sacco di parole nuove dello slang di voi giovani dai lucia grande sai cosa pensavo visto che ormai siamo una coppia collaudata no dopo sta storia dei baci perugina pensavo e se fondassimo un duo un duo ho già in mente il nome de cartiglis te ma è una bella idea dai che ti porto in discoteca ciao no Grazie a tutti.